L'equilibrio regge fino al tre pari, poi Gatto Monticone decide che è ora di serrare i ritmi dell'incontro e dalla linea di fondo campo detta le cadenze per l'accelerazione decisiva. La progressione porta lei e la sua compagna sul 6 a 3 e poi sul 9 a 4. Quanto basta per far capire alle rivali che il match è giunto al capolinea. Il secondo dei 5 match balls è quello buono per terminare 10 a 5 in allegria. Questa finale è stata un po' difficile perché abbiamo giocato contro le nostre due amiche e quindi è sempre un po' difficile impostare il gioco. Noi giochiamo il dopo per divertirci, per giocare, per allenarci, ma alla fine quando arrivi in finale e giochi contro le nostre due amiche non sai mai come gestire tutto, ma ci siamo divertite, abbiamo giocato bene e siamo contenti.